Non è bastato l'iter istituzionale seguito dal sindaco Marchionna che ha incontrato il suo omologo di Francavilla Fontana, Denuzzo, per ottenere il benestare all'utilizzo della nuova Red Arena per le partite casalinghe del Brindisi. Non c'è ancora la risposta ufficiale della Virtus che arriverà a Marchionna attraverso il sindaco Denuzzo, ma tutto lascia presagire che sarà un categorico no. Le motivazioni che starebbero portando la società del presidente Magri a negare lo stadio di Francavillese al Brindisi andrebbero dall'ordine pubblico ai lavori da effettuare nella tribuna da parte del gestore dello stadio che si protrarranno almeno sino alle metà di ottobre. Il Brindisi a questo punto sta lavorando per trovare un altro stadio provvisorio per le partite casalinghe del Biancazzurri qualora i lavori di adeguamento del Fanuzzi non siano stati completati per l'avvio della nuova stagione e potrebbe essere il Monterisi di Cerignola. Il Brindisi dovrà adesso indicare lo stadio alternativo alla Lega entro il 15 giugno prossimo. Dal suo canto l'amministrazione comunale continua a muoversi per quanto di sua competenza sui lavori da effettuare allo stadio Franco Fanuzzi come confermato ai microfoni di Antenna Sud dal sindaco Marchionna. Abbiamo un'ampia scelta di alternative sapendo che il dato è che dobbiamo indicarlo obbligatoriamente perché nei momenti in cui si chiudono le iscrizioni cioè il 15 giugno lo stadio di Brindisi non è agibile. Noi faremo salti mortali per renderlo agibile entro il 31 agosto ma al momento non lo è e quindi una sede alternativa è obbligatorio indicarla. Ovviamente aspettiamo con urgenza la risposta del presidente della Virtus. Francavilla che ci verrà comunicata dal sindaco Denuzzo. Dopodiché prenderemo in considerazione eventualmente altre ipotesi se dovesse essere necessarie.